Ogni tanto succede. E soprattutto la linea difensiva sembra quasi che abbia bisogno sempre di retrocedere. Attenzione, attenzione. Da Alessandro, buona pallone. Scaglia! 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 Sulla prima. Scaglia! 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 Sulla grande giocata di Alessandro. Scaglia ha segnato il gol in porta. Un gol importantissimo. Mamma mia. Scaglia che praticamente ha tagliato fin dentro l'area di rigore. Ma guarda qua D'Alex. Salta l'uomo. Scaglia va, gli dà il pallone. Molto bene col sinistro. Bravo. Scaglia che ha fatto un bel gol. Guarda D'Alessandro la prima palla che ha saltato l'uomo. Hai visto? Bravo però D'Agliela. Ha dato una gran palla ma bravo anche Scaglia. Scaglia è stato bravissimo. Frentissimo sotto porta. Perché la difesa, la protetta, se l'è messa sul sinistro è andato a segnare.